buongiorno a tutti ragazzi bentornati sulla grania sky 2 allora ragazzuoli 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 ho fatto un po di palla ho fatto un po di palla nel senso e di basta allontanarsi un attimo cazzo che qua in pratica in pratica ho fatto un po di queste perché perché dobbiamo finire questa roba qua ci serve a strafottere il discorso è molto semplice ci serve a strafottere scusate ma sono ancora ammalato mi piace questa zucca aspettate e e dicevo ci serve a strafottere tutto perché è veramente tanta roba da fare ora oggi pensavo di fare dove finito il libro il libro delle quest pensavo di fare ancora un po di quest allora adesso volevo spiegarvi un attimo una cosa di questa roba qua rune of self sacrifice no non mi interessa praticamente queste rune qua self sacrifice o altri tipi di rune che possono essere la speed la capacitor e cazzate varie servono praticamente da sostituirle a queste in pratica se io stacco via questa qua allora vediamo no adesso vi faccio vedere in teoria se qua mi sta arrivando troppe ma fermiamo un attimo fermiamo un attimo il tutto dicevo in teoria se io stacco questa perdiamo un altare al 3 giusto e al 2 cioè abbiamo un altare al 1 ma capacità 10.000 ok se io gli metto questa a noi ci torna l'altare al 2 al 3 scusate capacità 10.000 che cosa voglio fare oggi oggi intanto che aspettiamo che finisce di fare sta roba qua finiamo un po di queste che ci richiedevano il tier 3 due quest completate vediamo un po che cosa abbiamo come quest completate due quest completate sono della magic ma no di che assina giusto della mystical no della madre la mob hunter giustamente ho ammazzato zombie ho ammazzato allora della mystical blood ecco facciamo esattamente le rune queste qua l'efficient sacrifice poi c'è questa che l'abbiamo già fatta network space non so che cosa serve comunque sia andiamo avanti un po ad esempio questa qua l'efficient sacrifice è molto utile perché aumenta praticamente del 10 per cento l'essenza vitale quindi l lp che prendiamo dal dei mob il l'aumento del 10 per cento uno per ogni blocco quindi come si fanno queste efficient sacrifice semplicemente prendiamo tutta sta roba qua intanto e la buttiamo dentro qua cos'è successo no è finita la corrente no non è vero è finita la corrente è finita la corrente come può essere finita la corrente è finita la corrente ah cazzo è finita la corrente dentro vaffanculo aspetta io avevo la corrente qua però minchia no ok dovrebbe aver ripreso perfetto 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 allora niente facciamo così allora intanto buttiamo via tutta sta merda che non ci serve a nulla per il momento tutta sta roba qua non ci serve assolutamente a niente prendiamolo io e l'orium e lo buttiamo dentro si effettivamente ho lasciato il gioco aperto per un bel po' per farmare quella roba perfetto allora dicevamo dobbiamo fare quelle quelle sacrifice lì come si fanno come si fanno come si fanno si fanno semplicemente vediamo come si fanno se fanno semplicemente vediamo e abbiamo fatto un primo sacrificio così ah con la reinforced serve è vero serve la reinforced quindi ok ok così e così con questa qua no dove è che è il blood dove è finito dove stai no perché non me la fa fare ah perché serve uno di quelli nuovi tier 3 ok posso fare questo con un blocco di oro perfetto facciamolo allora un blocco si ciao davide un blocco d'oro intanto il tier 3 ce l'abbiamo guarda quanto sangue possiamo prendere quando poi sarà tutto automatico anche l'uccisione sarà una gran figata eh ragazzi questa roba qua la tiriamo via perché mi ha rotto le balle allora muoio o no a culo ok gli mettiamo questo e continuiamo a sacrificare idioti dai quanto ci vuole ma no è finito il sangue mi serve un sacco allora grazie a tutti grazie a tutti ok ha fatto eh perfetto possiamo andare avanti tranquillamente dicevamo bam rule of sacrifice ci da praticamente più eh più sangue 10% in più a cosa quindi facciamo il tier 2 che è quello sotto servono 8 e gli mettiamo 2 mi manca la stone mi manca la stone che ho di là però ok stone ok stone mettiamo così e così dicevo 3 4 5 6 7 8 in pratica adesso ogni volta che ne ammazziamo uno vediamo un po' come siamo messi intanto questo qua il capacitor lo tolgo perché non mi serve a niente allora vediamo intanto guardiamo se io faccio così mi dice che ne ho 11 ah no vedi è aumentato è aumentata la capacità di 1000 interessante questa cosa molto interessante allora sapete cosa potremmo fare potrei fare altri capaciti vediamo un po' come vengono fuori capaciti superior capaciti demonic slate si fa ah beh col tier 3 ah no si fa l'imbued e poi serve il tier 4 per fare demonic ah no infatti no niente allora niente facciamo l'uruno soffre che fa che è molto meglio quindi tiriamo via adesso il allora vediamo se noi adesso abbiamo quanto abbiamo dentro il massimo 11000 allora facciamo così mettiamo uno di questi così lo consuma perfetto mettiamo ancora 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 ok così ne ha consumato un po' siamo a 10.100 no ancora poco ancora poco 9545 se noi ne ammazziamo uno siamo a ci ha dato praticamente quasi 500.000 se noi mettiamo tiriamo via questa tiriamo via tutto qua in realtà tutto tranne l'altare ovviamente che idioti e gli mettiamo queste praticamente stiamo aumentando il numero di guardali che testa di cazzo ma porca puttana ma si può abbiamo aumentato il numero di cose che si possono cioè di sangue che producono ogni singolo deficiente di merda qua avete finito ma io posso esportare sangue da questi qua cos'è che sta facendo chi è che sta guardali guardali che deficienti ma tu puoi sti babbi di minchia guarda guarda te che bordello che hanno fatto dicevo si potrà asportare se io gli metto un fluid sto dicendo una minchiata normale un fluido normale con un servo normale intanto questi qua li buttiamo giù che non ci servono questi li buttiamo giù e niente così aumentiamo comunque come detto facciamo sta prova guarda il cazzo qua si io come lo vedo che è quello pacco questo lo mette in tank ho un drum no ce l'ho pieno il drum vaffanculo vabbè niente è una stronzata poi vedrò vedrò io intanto qua facciamo andare ancora un po' di questo si dai mi serve redstone allora questi li stacchiamo questi qua li facciamo fuori tutti no però prima vorremmo andargli ok ok preso va bene quella quest l'abbiamo fatto no quella quest un cazzo cazzo sto dicendo niente oggi ragazzi con la febbre sono veramente rincoglionito sono veramente rincoglionito avete presente il rincoglionito ecco io dispenser ah il dispenser invece va in testa con l'idiota questi non mi interessano ok questo non mi serve questo non mi serve questo neanche dicevamo dicevamo andiamo a vedere qualche altra quest comunque la runa del sacrificio l'abbiamo fatta quindi abbiamo completato la nostra bella quest mystical blood qua ma runa del sacrificio fatta e ci ha dato anche un libro un libro bello carino vediamo scienza del sangue ah ci ha dato guardate allora blood altar adesso mi dice come si fa sorrata il soul network cos'è il soul network 200 lp ok speed rune si c'è tutta la l'ambaradam che a noi non ci interessa per il momento verifichiamo intanto qualche altra quest che serviva è il tier 3 perché se no passiamo direttamente a fare il tier 4 vediamo allora tier 3 possiamo fare l'invued slate che si fa semplicemente mettendo all'interno del prendiamo la queste qua le reinforced la mettiamo qua dentro togliamo questo e gli mettiamo questo e lui ci produce la cosa il problema è che serve un boato di sangue per farla allora producere sta producere sta producendo voglio capire quanto ci vuole ok ha fatto vedete allora mano vuota e ci riprendiamo i nostri bei a 6 in MS beh certo continuava a farli per forza ci prendiamo i nostri bei in vued quindi semplicemente mettendo il reinforced slate a fare ancora col col sangue ci da il water sigil dovrebbe essere un sigillo che ci da 100 lp d'acqua allora proviamo proviamo a vedere come si fa perché i sigili sono una figata eh water poi vi spiego anche come funzionano water sigil serve acqua 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 una blank slate possiamo farla tranquillamente allora ci servono 7 secchi d'acqua allora buchetto 1 2 3 4 5 6 7 andiamo a prendere l'acqua che tanto abbiamo acqua infinita mettiamolo così ci mettiamo qua 1 2 3 4 5 6 e 7 perfetto quindi così bam bam e fatto water sigil allora il water sigil come dicevo mette giù l'acqua vedete è o non è una figata sì sono un coglione vero vero che sono un coglione lo so lo so ragazzi lo so e voi non fateci caso quando uno è idiota è idiota è è ecco sì allora come funzionano questi sigili io se non ho capito male funzionano con il sangue che noi abbiamo addosso nel senso se io sacrifico il mio sangue con in mano l'orb vedete che comunque mi sto sacrificando ma non sta andando là è una carica che non so se va dentro vedi store rove life essence praticamente è l'orb che assorbe l'essenza e mi serve poi per appunto fare fare l'acqua vedete se io mi metto qua adesso vedete tacca acqua 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 guardate che figata ah ecco man mano che lo uso usa il mio sangue vedete vedete guardate la vita colpo e mi toglie mezzo cuore colpo e mi toglie mezzo cuore ogni bucket d'acqua che io utilizzo se non ho più life essence mi 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 usa la mia vita ok questo lo lasciamo così perché mi piace la cascata ok figata figata oltre a questo intanto mangio così recuperiamo vita oltre a questo ovviamente ovviamente abbiamo anche altri quindi intanto completiamo la quest oh blood storage questo perché me la da completata blood tank can store any fluid 16 bucket where tank when broken the fluid remain ok va bene grazie ma io non l'avevo fatta come sta infatti non ce l'ho o forse l'ho fatto no non ce l'ho fatti ci sono vari tier ma vabbè facciamo il primo ok grazie grazie ma io come lo va bene fa niente va bene l'abbiamo fatta non so non so perché ma fa niente poi dicevamo abbiamo magnetic grove blood light televised non so che cosa siano ma li proviamo allora vediamo tanto se possiamo farli ovviamente magnetic ci serve sigil of green grove e magnetism allora facciamo così sigil sigil of the green grove eccolo qua perfetto lo possiamo fare ci manca quattro canne da zucchero che noi dovremmo avere perché abbiamo la nostra bella piantagione figa qua quindi canna da zucchero canna da zucchero eccolo qua tac tac e tac e dobbiamo farne crescere un'altra dai fai il serio cazzo questo lo mettiamo via perché adesso non mi serve io vi ricordo ragazzi di mettere mi piace condividete ditelo agli amici ditelo ai vostri fratelli ditelo a che cazzo volete voi ma condividete fate ah sono cresciuti no non ci credo guardate sono cresciuti i polipi nella cascata che babbi di minchia ok completiamo sta quest perché veramente allora una due tre quattro non ce l'ha perché si erano tre e l'orb ma porco ma 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 allora allora vi svegliate ragazzi dai porca puttana che idiota magnetismo attenzione l'imbue ce l'abbiamo blocchi di iron uno due tre quattro e bam fatto sigillo del magnetismo allora il sigillo sigillo of the green grove serve per far crescere più velocemente le piante quindi nel nostro caso togliamo questi pomodori poi in teoria dovrebbe ma non funziona si il teore in teoria dovrebbe funzionare vedete fa crescere più velocemente la pianta la stronzata il sigillo del magnetismo attira gli oggetti esempio spacco quello lì la e vedete che me lo attira a me però ogni volta che lo tenete in mano vi toglie comunque della life essence quindi dell'essenza vitale c'è c'è ogni volta che lo tenete in barra praticamente se lo tiro via la barra continua si e lo tiriamo via via questo sigillo via questo sigillo via questo sigillo intanto completiamo la quest ogni sigillo ha praticamente le sue le sue cose questo blood light il sigillo non so che cosa sia proviamo a farlo blood lamp il sigillo della lampada di sangue in bue li possiamo fare tutti quindi ci servono 4 glowstone 1 2 3 4 un sacco di sigilli in questa puntata ragazzi un sacco di sigilli eccolo qua ah lancia a fuoco eh che storia meno praticamente come un fabbro guardate che figata perfetto questo lancia a fuoco ogni volta che lanciamo fuoco ci toglie mezzo cuore ricordate ogni cosa che facciamo con questi sigilli ci toglie essenza vitale poi poi possiamo usare possiamo usare queste le facciamo queste le facciamo nella prossima puntata allora perché voglio capire bene come funziona poi cos'altro possiamo fare cos'altro possiamo fare cos'altro possiamo fare bloody fields cos'è che è questo questo bloodthorn bloodthorn è della botania devo fare mystical red flower ah la red flower dentro al tier 4 ok niente niente non lo si può fare questo qua l'altar diviner no qua diviner serviva il tier 3 perfetto ma cos'è che serve sto coso piazzare di fianco all'altare va bene lo piazzeremo di fianco all'altare quindi facciamo un altar ok lo mettiamo lo mettiamo qua dentro e sacrifichiamo un po' di minchioni dove è la spada? abbiamo un po' di minchioni da sacrificare un po' tanti anche ma quindi io mi chiedo e mi domando eccolo qua sigillo dall'altare e lo piazziamo tipo tipo qua e che cosa fa? guardali come si ammazzano le storie di loro no non si ammazzano le storie di loro e no vorrei capire cosa serve questo sacrifico anche no non si riempie di sangue boh vabbè lo capirò poi cosa serve completiamo anche questa quest non ho più spazio nelle bag perché mi riempio di merdacce ogni volta che mi avvicino lì quindi dovrò sistemare anche quella cosa bam fatto allora ragazzi speed rune acceleration rune ok queste servono ah che coglione se facevo questo mi dava blood tank aumenta la velocità delle cose quindi io vedrei se possiamo fare le speed o se ci serve si la possiamo fare una due tre e quattro e poi facciamo anche l'acceleration ok ah però l'acceleration ci chiede l'eternal quindi dai no possibile eh sì niente ci serve il tier più alto va bene allora io concluderei qui la puntata e oh la madonna io concluderei qui la puntata e farei nella prossima il tier 4 quindi io adesso off camera preparo le blood of rune e le blood rune e facciamo il tier 4 nella prossima puntata quindi direi che per oggi è tutto grazie a tutti ciao ciao